Dategli un volante, qualunque esso sia, e vedrete che saprà tirarci fuori qualcosa di buono, probabilmente un podio. È successo su Lamborghini, su Lotus e in quest'ottobre pure al volante della Ferrari con il successo del 21enne pesarese Diego Di Fabio nel Tempio della Velocità di Monza nel campionato Gran Turismo. Un weekend fantastico in quel di Monza, una pista dove non giravo da due anni, che è stata recentemente aggiornata per la Formula 1, quindi sono state cambiate tantissime cose, i cordoli, è stata allargata ed è molto bella, mi sono trovato molto bene, la macchina andava molto bene, pole position, quindi giro della pole fantastico, siamo andati subito forte e domenica molto bene comunque. Peccato gara 2 che abbiamo rimontato dalla 23se a posizione alla decima, purtroppo una bandiera rossa ha fatto chiudere la gara un po' prima e quindi peccato. Dopo Monza e la Ferrari il mese di ottobre ha rimbalzato Diego Di Fabio a Barcellona su Lamborghini in un cambio continuo di macchine che sta diventando un'importante palestra formativa. È una palestra, è un forte allenamento, però non è facile, è abbastanza complicato perché è salto di qua e di là, le macchine sono completamente diverse, ogni volta il primo giro con ogni macchina, il venerdì mi sento ubriaco, dico che sto guidando, non capisco, poi alla fine mi trovo bene la domenica, il sabato e la domenica. Su Lamborghini sarà anche l'ultimo impegno delle 2024. No, l'ultimo impegno è con la Lamborghini alle finali mondiali Lamborghini in Spagna, nel monomarca Lamborghini europeo, asiatico e nordamericano, a Jerez con la Lamborghini Super Trofeo europeo. Va in archivi un anno positivo con prospettive di ulteriore salto di qualità nel 2025. L'obiettivo è cercare di correre il prossimo anno a gare internazionali più presente, al posto che una gara spot all'anno, ma essere presente continuamente, fare una stagione completa, stiamo provando, ci stiamo già lavorando da adesso e le possibilità ci sono, vediamo un po', ci aggiusteremo durante dicembre-gennaio sicuramente. In una Pesaro che appena pochi giorni fa ha inaugurato la statua in memoria di Tonino Benelli, capostipite di un lungo elenco di grandi piloti del motociclismo pesarese, Di Fabio lavora per irrobustire la meno nutrita schiera di rappresentanti delle quattro ruote. Si spera di essere qualcuno di importante, soprattutto in quel di Pesaro, dato che è un gran parterre di piloti, Pesaro, comunque la riviera di piloti, soprattutto due ruote, che quattro, spero di essere uno dei pochi delle quattro ruote di alto livello, come il buon Gianni Morbidelli che ha fatto la storia, soprattutto in Formula 1 o in gara GT di turismo.